Abbiamo parlato in precedenza del ruolo sociale che il consulente finanziario svolge in questo momento, è un ruolo, dottor Volpato, che durante la pandemia del Covid-19, cioè nell'ultimo anno a partire soprattutto dalla primavera scorsa in poi, si è accentuato. Ecco, per quale ragione secondo lei? Ma intanto perché tutti noi italiani ci siamo trovati in una fase molto faticosa per la vita di tutti noi, perché le crisi ci sono sempre state, però questa è una crisi che attacca la salute, il lavoro delle persone, il risparmio, cioè tutte quelle che erano le nostre certezze. Dobbiamo aver chiaro che è una crisi e come tale avrà una fine, ma il ruolo è importante perché c'è un'altra pandemia, secondo me, uso in modo improprio questo termine ovviamente, dalla quale dobbiamo vaccinare gli italiani. Perché? Perché rischia di avere dei risvolti drammatici in un altro verso. E questa pandemia, la chiamo io, è il concetto del presente assoluto. Esiste solo il presente, non c'è più domani. E non è vero. Questa sfiducia nel futuro, questo presentismo dilagante è testimoniato, come dicevo prima, da una massa di liquidità impressionante, perché parliamo di 1700 miliardi di ricchezza finanziaria su circa 4600, con cui gli italiani stanno rispondendo a questa totale mancanza di visione del futuro. E noi, quindi, è proprio un compito nostro in questo contesto, dobbiamo far capire alle persone che il futuro deve ritornare al centro delle nostre vite e determinare di conseguenza le nostre scelte di investimento. Il futuro dei figli, la salute, il tenore di vita in terza età, il sostegno ai genitori laddove ci siano, sono tutti temi importantissimi che ci saranno e con i quali ci si deve confrontare ed è importantissimo arrivare preparati. Quindi dobbiamo aiutare le persone ad alzare lo sguardo dal presente, contestualizzare gli eventi, seppur drammatici e inaspettati, nel giusto contesto temporale. Nell'arco della vita di una persona, che abbiamo visto mediamente, superabondantemente gli 80 anni, il coronavirus rappresenterà una, per esempio, brutta, drammatica, faticosissima, nessuno vuole minimizzare, ma, seppur drammatica, avrà occupato un piccolo spazio nella nostra vita. Se riusciamo ad alzare la testa e a immaginarci il mondo tra cinque anni, riusciamo a recuperare la giusta lucidità che poi diventa fiducia per progettare il nostro futuro. Non possiamo arrivare finanziariamente impreparati al momento in cui ci ritereremo da lavoro o il momento nel quale i nostri figli ci chiederanno di continuare gli studi oppure di iniziare un'attività lavorativa che necessita di un minimo di aiuto economico o all'assistenza sanitaria dei genitori anziani. Cioè, sono temi importantissimi. Ecco, in questo la consulenza finanziaria può e deve, di conseguenza, fare la propria parte. Perché? Perché quando parliamo di ruolo sociale, parliamo proprio di questo, ruolo sociale per le persone, per le famiglie. Ed è lì che noi dobbiamo portare consapevolezza sulla necessità di individuare prima queste esigenze e quindi di investire coerentemente su dei reali progetti di vita. Tutto quanto questo ricordandoci che le scelte che noi facciamo o non facciamo oggi impatteranno in maniera estremamente significativa nelle vite di tutti noi. Grazie. Grazie. Grazie.